Buongiorno Giulia Nova, Operazione Verità, oggi torna ad occuparsi del piano spiaggia. In questi giorni il capogruppo del cittadino governante ha diffuso un comunicato nel quale chiede che sull'arenile prospicente di lungomare monumentale vengano previste spiagge a libera frizione. Ebbene è evidente che questa richiesta è frutto di un errore, direi di una confusione nella quale si è ritrovato il capogruppo e il gruppo consigliare. Perché nella realtà a Giulia Nova sul lungomare monumentale, sul tratto di arremine del lungomare monumentale già sono previste spiagge libere e addirittura tre cittadini, una delle quali di 32 metri lineari ubicata fra le concessioni Nova Vita e Venere. Sicché consiglio al capogruppo e al consigliare di studiarsi bene le carte e di difendere quella che è una conquista per tutta la città. Allora, a Giulia Nova già nel piano spiaggia del 2007, poi variato e modificato nel 2015 sono previste queste tre spiagge libere. Non solo, ma è previsto il 25% di spiagge libere su tutto l'arenile. Quindi un quarto dell'intero arenile è destinato alla libera frizione. Il primo settembre scorso io e Archimede Forcellese abbiamo presentato una osservazione che tende appunto a invalidare la previsione dell'attuale amministrazione che invece vuole cancellare le tre spiagge libere previste sull'arenile del lungomare monumentale e ridurre le spiagge libere previste già attualmente dal 25% al 21%. Questo perché è stata applicata una norma che è l'articolo 5,2 del piano del maniale marittimo regionale falsamente, che non si poteva applicare. Perché quella norma, come abbiamo spiegato, si può applicare solo se nel Comune non si raggiunge almeno il 20% di spiagge libere, ma a Giulianova c'è già il 25%, tal che se in Consiglio Comunale non venisse approvata la nostra osservazione, l'intero piano sarebbe tamquam non esset, potrebbe essere impugnato dinanzi al Tar che ne determinerebbe la caducazione nella sua interezza. Allora, se vuole il capogruppo e il gruppo del cittadino governante può utilizzare la nostra osservazione, quella mia, quella di Archimede Forcellese che vuole ottenere un solo obiettivo, quello di impedire che in questa città si sottraggano tratti di arenire a libera fruizione per coloro che non si possono permettere di pagare un ombrellone e che soprattutto rimanga la previsione sul lungomare monumentale, sul ranerire del lungomare monumentale, quello più pregiato. Cittadini, difendiamo quello che in questa città è già una realtà da 16 anni, dagli attacchi di una destra che vuole sottrarre un bene prezioso, quello più prezioso che noi abbiamo, la sabbia, la fruizione, la bellezza a chi non ha la possibilità di comprarla, questa bellezza. La bellezza è di tutti, l'arenile è di tutti e un bene di tutti. Difendiamolo. Buona giornata Giulia Nova.